buongiorno ragazzi buongiorno a tutti ci siamo svegliati bene stamattina io penso di sì direi proprio di sì tra l'altro stamattina sono anche andata in uno dei miei uffici al chiuso perché c'è freddino per me poi c'è freddino ma alla fine io sto con due felpe c'è gente a maniche corte quindi sorvoliamo però si sono andata in uno dei miei uffici al chiuso e sto lavorando in questo momento al nuovo videocorso che uscirà adesso praticamente se non è già addirittura uscito non lo so sull'abbondanza sulla magia del denaro quindi tanta tanta roba ci sto davvero mettendo dentro tanta tanta roba e me lo dico da sola sto facendo proprio un lavorone poi direte poi vedrete e poi mi direte ma prendiamo intanto queste carte ok allora abbiamo il pianto la ricarica e il dolce amaro è già con in questa sequenza un sette di denari un fante di denari e un tre di spade quindi la vita non è sempre bella o sempre brutta la vita a volte è dolce amara e cioè c'è un po di dolce e c'è un po di amaro in sottofondo un retro gusto amaro e come prendere il caffè e mettergli lo zucchero è ovvio che prendiamo il caffè e lo zucchero abbiamo contemporaneamente l'amaro e il dolce ma non per questo è una cosa brutta anzi il 90 per cento degli italiani la mattina prende il caffè e quindi ciò significa che comunque qualcosa di buono deve averlo questo gusto il pianto cavolo e la carta del pianto con il tre di spade ci dice che stiamo lavorando con energie che ci hanno reso tristi per qualche motivo energie che ci hanno toccato nella parte più profonda di noi ci hanno turbato però ecco in questo turbamento noi abbiamo la possibilità di riscoprirci abbiamo la possibilità di vedere davvero cosa abbiamo dentro oltre le illusioni e oltre le fisime che ci facciamo quando diciamo a noi o agli altri io sono così io faccio così io penso così no no la verità si vede quando siamo toccati nelle emozioni perché è facile dire io 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 quando le cose vanno bene o quando le cose seguono i binari o quando siamo preparati a tutto insomma è facile quando abbiamo tutto sotto controllo ma è proprio quando le cose non sono più sotto controllo che escono le vere emozioni e che esce la nostra vera natura escono fuori le nostre debolezze così come anche le nostre forze i nostri punti di forza escono fuori le nostre emozioni più nascoste quelle che ci fanno sentire bambini esce proprio fuori il nostro bambino la nostra bambina interiore e oggi o in questi giorni sarà proprio un po così e se qualcuno di noi si farà un bel pianto in realtà è un pianto che sarà anche molto utile perché oltre appunto a farci comprendere e vedere qualcosa ci permetterà anche di scaricare energie il pianto è fatto per permettere al corpo di scaricare energie quelle in eccesso quelle che fanno male se vengono trattenute dentro energie che porterebbero anche alla malattia se fossero trattenute ed ecco che il pianto in realtà diventa una valvola di sfogo meravigliosa che il nostro corpo ha a disposizione proprio per rilasciare queste cose dunque consideriamo questo pianto o comunque questo elaborare le emozioni come un'occasione per scaricare quello che di brutto abbiamo dentro e ricaricarci con qualcosa di buono e positivo un po quello che facciamo quando ci ripuliamo energeticamente avete presente forse in qualche video in passato vi feci vedere insieme ma strega stefania bruca stefania come mettere i piedi nell'acqua di mare e visualizzare questo le energie negative tutte le frequenze più basse come una nube nera come delle macchie nere dentro di noi che scendono giù verso i piedi e si scaricano nell'acqua e poi respirare con respirare dal naso e a pieni polmoni l'aria ma immaginare visualizzare che quest'aria contenga invece una nube dorata di energia pura pulita che proviene dall'universo e che ci ricarica di qualcosa di positivo di vibrante ecco è la stessa cosa scarichiamo la negatività con il pianto per poterci poi riempire nuovamente di emozioni migliori ed ecco il dolce amaro ed ecco il lato positivo e il lato negativo di questa situazione ma perché ciò accade a quanto pare ciò accade perché noi stiamo aspettando qualcosa e di questa qualcosa che stiamo aspettando arriva solo una minima parte arriva solo un piccolo gesto un piccolo cenno potremmo essere noi a fare questo piccolo cenno a diventare questo fante di denari oppure potrebbe essere qualcun altro che lo fa nei nostri confronti fatto sta che questo qualcosa c'è ed è un gesto che va da noi verso fuori o da fuori viene verso noi ma noi cosa stiamo aspettando in realtà stavamo aspettando qualcosa di più forse o stavamo aspettando qualcosa di diverso o forse stavamo aspettando qualcosa che non c'entra nulla e stiamo magari ancora aspettando questo qualcosa ed ecco perché nell'attesa ci capita un momento in cui sentiamo il bisogno di scaricare questa energia perché non la vogliamo più e non e non si può aspettare in eterno l'occasione per sostituire l'energia negativa con un'energia positiva a volte bisogna proprio lasciarla andare quella negativa al di là di ciò che accade fuori al di là di ciò che arriva o non arriva e adesso andiamo a vedere invece che cosa accade al nostro sacro maschile al nostro sacro femminile e quindi a cosa sta accadendo tutti noi in amore ma se non riguarda per voi l'amore o la vostra vita romantica allora questo riguarderà una relazione con qualcuno che per voi in questo momento è molto importante o comunque che sta determinando l'andamento della vostra o delle vostre giornate dunque prendiamo tre carte per il maschile tre carte per il femminile se volete una sessione privata o un pacchetto ragazzi sapete benissimo dove andare cosa fare dove scrivere ma trovate tutto nel box in descrizione e ok ok allora una di qua e una di là maschile wow il maschile a tre carte di corte tra l'altro un re un cavaliere e una regina quindi qui abbiamo tre figure che rappresentano tre diversi stadi evolutivi di ciò che siamo in particolare la regina è di denari il cavaliere e il re sono di bastoni in più c'è la carta dell'insicurezza con questa carta sembra che l'insicurezza sia dovuta un po a qualcosa del passato a qualche esperienza passata che non non è andata esattamente benissimo e quindi ecco che adesso il maschile ha paura di ripetere certi errori però devo dire che l'energia del maschile è molto forte la voglia di agire la forza che sta dietro queste azioni è davvero molto forte davvero molto decisa quindi nonostante l'insicurezza il maschile fa agisce e non e non si lascia prendere dalle paure non si lascia sopraffare dall'insicurezza la riesce a vincere la riesce a sconfiggere anzi lo fa anche potrei dire con il cuore perché oltre a due figure maschili abbiamo una figura femminile che è quella della regina quindi c'è anche il cuore in tutto questo il cuore che è proprio quell'elemento che in questa situazione dà stabilità dà la forza al maschile di pensare ok io devo andare io devo fare e se dovesse andare male non importa ritorno al mio cuore ritorno a me stesso quindi io direi che sono delle bellissime carte per un maschile che vuole fare qualcosa ma adesso andiamo a vedere il femminile che si ritrova con un re di coppe un cavaliere di spade e un sette di coppe e la carta della confidenza allora il femminile altrettanto altrettanto forte questo femminile ma questo è un femminile che basa la sua forza sulle emozioni e sulla capacità di ascoltarsi e di ascoltare le proprie emozioni qui c'è un femminile che tra l'altro ha anche imparato a gestirle e a governarle le proprie emozioni e in base a queste sceglie cosa dire perché sì c'è qualcosa da dire e come se c'è questo cavaliere avrà qualcosa da dire lo farà anche in modo poco studiato sarà molto diretto molto chiaro questo è un cavaliere che nel bene risponde bene e nel male risponde male ma sempre dicendo esattamente ciò che pensa e ciò che prova niente di più e niente di meno potrebbe anche esserci una situazione in cui questo femminile sente il bisogno di fare una vera e propria confidenza qualcosa di molto importante qualcosa di molto profondo deve venire fuori e deve essere detto e non ha paura di farla questa confidenza nel senso non ha paura di sfogarsi di essere sincero di dire che cosa prova a livello profondo perché il femminile ha capito che sta lì il nucleo di tutto se noi siamo capaci di dire la verità la nostra verità poi la verità non è mai assoluta ma è sempre personale ma se noi siamo capaci di dire la nostra verità soprattutto quando si parla di emozioni o di cose interiori nulla al di fuori di noi può dirci che sbagliamo nessuno può dirci che sbagliamo perché le emozioni non sono mai degli errori le emozioni sono il modo che il nostro corpo e la nostra coscienza hanno di esprimere le percezioni che arrivano da fuori quindi io posso sbagliare a ricevere delle informazioni da fuori le posso recepire male ma non posso sbagliare a provare un'emozione qualunque sia di qualunque tipo sia questa emozione quindi stiamo attenti quando noi ci giudichiamo perché sbagliamo a provare determinate cose non è mai un errore provare certe cose semmai l'errore sta all'apice alla radice cioè sta nella percezione che noi abbiamo di ciò che accade fuori sta nella nostra capacità di gestire ciò che accade fuori o piuttosto esserne vittime ed ecco che appunto possiamo provare delle emozioni negative o quando non capiamo bene cosa sta succedendo e quindi interpretiamo male oppure quando capiamo perfettamente cosa sta succedendo ma non siamo in grado di gestirlo e quindi ci sentiamo impotenti incapaci e stiamo male ma lo stare male il provare un'emozione non è mai sbagliato anzi le emozioni sono proprio il modo che il nostro corpo e la nostra coscienza hanno di comunicare qualcosa che non va comunicare qualcosa di importante quindi attenzione sempre alle emozioni ecco questo è un femminile che non solo ha saputo ascoltarla la sua emozione ma anche saputo dirla o saprà dirla adesso oggi o in questi giorni quindi molto bello io direi anche se forse in parte questo femminile esprimerà confusione perché ci sono in effetti c'è un po di confusione e fa parte del pacchetto fa parte del gioco fa parte di ciò che il femminile sente e quindi siccome lo sente lo dirà se è questo ciò che ha dentro e adesso andiamo invece a vedere qual è il consiglio delle carte per noi oggi ci servono dunque le ultime due carte vediamo un po cosa hanno da dirci e io intanto ogni tanto mi viene in mente vi ricordo di iscrivervi al canale se ne avete voglia di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati tutti i giorni sull'oracolo e nel weekend sulle lezioni di tarologia e cartomanzia e noi andiamo avanti con il consiglio ah e se vi fa piacere mettete anche il like che non serve un tubo all'algoritmo quindi quando dicono mettete il like che serve no non serve un tubo è proprio una soddisfazione personale invece qualcosa che serve quando uno guarda il vostro video si iscrive lì l'algoritmo capisce che il vostro video è fantastico quindi fatemi questo favore iscrivetevi così l'algoritmo capisce che il mio video è bellissimo allora abbiamo un imperatore un imperatore un imperatrice cavolo qui abbiamo un'unione magnifica di maschile e femminile al top del loro potere personale e in effetti queste due carte sono molto in sintonia con quello che abbiamo visto fra maschile e femminile su ciò che sta accadendo in amore o nelle relazioni perché in effetti entrambe le energie maschile e femminile hanno delle carte forti potenti e le stanno manifestando in modo decisivo quindi quello che queste carte vogliono suggerirci è lavoriamo sul mantenere questo equilibrio lavoriamo su noi stessi per fare in modo che il nostro maschile e il nostro femminile non siano uno più forte dell'altro ma siano sullo stesso piano come un imperatore con un'imperatrice entrambi sono potentissimi entrambi dominano sui re sui vari re che governano i regni all'interno dell'impero quindi siate imperatore siate imperatrice mi raccomando vi auguro una splendida giornata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao